L'Italia 7-4 L'Italia 7-4 prosiderette Ginox E' Ginox, l'Italia 7-4 KLM 148 scende da 6.000 piedi, il QNH 1009 Continuiamo la discesa da 6.000 piedi, QNH 1009, KLM 148 L'Italia 6-7 L'Italia 6-7 L'Italia 7-4 L'Italia 7-5 L'Italia 7-6 L'Italia 8-6 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a piedi Cattalem 148 Cattalem 148 dopo Roniv può andare diretto a Nebux dopo Roniv diretto su Nebux Cattalem 148 Terrain, Terrain 500 400 300 300 200 200 100 100 50 40 30 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Sì, sì. Autorizzato per i 2.500 pieti e per l'ILS 3-4 sinistra riporterò quando stabili sull'ILS. Autorizzato per i 2.500 pieti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.